Ciao, sono la dottoressa Carmen Valentino e oggi voglio darti una ricetta velocissima da preparare ma soprattutto gustosissima. Sto parlando del frullato a base di tè verde e melone. Gli ingredienti da utilizzare sono solo tre, ovvero una tazza di tè verde, una fetta di melone e una sostanza dolcente a tuo piacimento. Per quanto riguarda la preparazione, tutto quello che devi fare è preparare una tazza di tè verde e lasciarla raffreddare completamente. A questo punto versi il tè verde raffreddato all'interno del frullatore con la fetta del melone. Dopodiché frulli il tutto. Inoltre vi consiglio di berlo quotidianamente ma soprattutto a digiuno per notare soprattutto il suo effetto diuretico. Provala in questi giorni e fammi sapere. Se il video ti è piaciuto ti invito a mettere un mi piace qui sotto. Ciao e a presto!